L'Ariatto, destinazione Puro Resu, episodio numero 247, io sono Stefano, una delle voci di questo progetto, ideatore di questo programma, al mio fianco, l'uomo del Giappone. Ciao Miki, benvenuto. Ciao, grazie mille. Siamo qui per parlare di Marigold, abbiamo visto una serie di eventi, diciamo, in preparazione di quelli che poi saranno i giorni clou, a luglio, il pay-per-view, che sarà una bella lotta, decideremo se acquistare o meno il pay-per-view, sarà una bella sfida da comprendere, da capire, perché chiaramente non ci sta piacendo molto l'andato di Marigold. Io sono un po' così, reticente verso quelli che, senza prudenza, vedono una cosa e la lanciano subito nella stratosfera. Vi faccio un esempio che non ha nulla a che vedere con il wrestling, è un esempio calcistico. Se un calciatore fa bene una stagione, questo calciatore comincia ad avere la pressione di tutte le squadre più grandi, importanti e che, ovviamente, vogliono acquisire i suoi servigi e quant'altro. Ma una stagione buona la può fare chiunque. Il punto è che la maggior parte di questi calciatori che fanno una stagione veramente potentissima, dove appena la toccano va dentro, dove appena fanno un passaggio perfetto, poi non è detto che questa cosa possa andare avanti e quindi io uso sempre la prudenza e dico, vediamo un paio, anche tre campionati e capiamo se c'è regolarità in queste prestazioni, perché ovviamente la regolarità è fondamentale. Se io prendo qualcuno che mi fa bene il primo giorno, è chiaramente, sono contento quel giorno, ma tutti gli altri giorni. Se prendo uno che ha appena fatto bene da un'altra parte, ma qua non sta facendo tanto bene, Marigold ha avuto un po' questo effetto elastico, no? Cioè è partita come una cosa, c'è Rossi Ogawa, c'è Giulia. Giulia, peraltro, pare già promessa in sposa alla WWE, quindi comunque è a tempo lì, no? Cioè, the clock is ticking. E quindi non è tipo il nome su cui puntare, capito, per il futuro. Se è davvero così, io penso di sì, però. A questo punto tu hai una Marigold che parte con un Rossi Ogawa, grande nome del passato, presente, fondatore di Stardom e di altre realtà e tutto il resto. Va benissimo. Hai portato cinque ragazze, di cui due effettivamente forti forti, cioè Utami e Mirai. Una che sta per andare via, cioè Giulia. E poi hai Maisakurai e una giovanissima Victoria Yuzuki, che comunque, per quanto possa attrarre da un punto di vista delle capacità potenziali, è lì, è indietro. Ci vuole del tempo, cioè comunque aveva debuttato da poco in Stardom, quindi deve fare tutto un percorso che nel Joshi è abbastanza lungo, il percorso di Kaisita deve maturare per un bel po' di tempo. Ti sei portato in casa la sicurezza di Nanai Takashi, che però è aggrappata alle sue vittorie come, penso, pochissimi altri che sono così avanti negli anni, no? Cioè persone che hanno superato i 35-40 quando si trovano in realtà dove la maggior parte delle persone sono giovani, comunque giobbano volentieri, no? Aiutano. E invece lei no, non lo fa volentieri. Inoltre, hai una serie di ragazze che sono arrivate dall'Acturess che per quanto possono impegnarsi tanto, hanno delle difficoltà, devono comunque imparare tantissimo a lavorare. Dall'altra parte, hai preso tre Gaijin che sono una peggiore dell'altra. Bozilla, giovanissima, con pochissima esperienza, è orribile da vedere sul ring. Onesto, cioè non ha... Voi quando portate in casa una powerhouse che può essere, che ne so, Megan Bane. Megan Bane è capace, si muove bene, è in grado, no? Da un punto di vista anche fisico di fare le cose. Dall'altra parte, hai altre due ragazze considerate anche carucce, che è una cosa che sappiamo che a Rossiogawa importa tanto, però in realtà sono scarsissime. Recitano male, lottano male. Quando noi le abbiamo viste incrociate con alcune ragazze dell'Acturess, soprattutto, ragazzi, è stata la sagra dello sloppy. Erano tutte molto incapaci. Nell'ultimo show c'è stato un 3 contro 3 che si salva veramente poco, molto poco, di quell'incontro. Cioè gli incroci tra Myla Grace e pochi da buttare via, ma proprio gente che riposiziona l'avversario per cercare di riprendere la mossa. Che viene comunque male anche quando la riprendi. No, no, no. È andata malissima da questo punto di vista. Io, c'è dentro Sari, che è comunque una free agent, e non sappiamo quanto starà in Marigold. Di base, non abbiamo un roster davvero così importante, davvero così grosso, davvero così... Soprattutto perché sono già state annunciate quattro categorie titolate, white belt, red belt, flyweight belt e tag belt. Io dico, onesto, ma dov'è il materiale umano? Non solo per avere tutte queste categorie diversificate, ma per avere delle persone tutte degne di queste cinture. Te la puoi cavare con una rossa a Utami, una bianca a Mirai e la coppia a Utami-Mirai. Loro sono rappresentative. Però, ragazzi, è molto poco quello che sta succedendo. Inoltre, Rossi Ogawa torna con la sua idea di chiusura, quindi dice che non manda più le sue atlete in giro, tra l'altro con un timing perfetto. Ha detto esattamente tipo il giorno dopo che c'è stato il Memorial di Anakimura. Non so, onestamente, se quelli che hanno gridato al miracolo sono persone che hanno usato questa prudenza. Io auguro a tutte le federazioni, a tutte le realtà, di diventare importanti e forti. Ma qua c'erano delle premesse particolari, e non solo le premesse, c'erano anche delle promesse particolari, da parte, in primis, di Rossi Ogawa, che ha la bocca larga, è la rana della bocca larga, da sempre, da sempre. Ha sempre parlato molto di più di quello che ha fatto. E dall'altra parte, siamo di fronte a un'attesa di Giulia che se ne va, di uno show, quello di luglio, che avrà uno scontro importantissimo, Sarì contro Giulia, che potrebbe essere un una tantum, senza nulla in mezzo, e già da dimenticare, perché una va in WWE e l'altra torna a fare le sue cose come freelancer. Onestamente la vedo un po' grigia da questo punto di vista. Anche perché, poi vediamo, andando avanti alla puntata, ci sono altre piccole cose. Questo era il male, ma chiedo a Michi di essere preciso e puntuale, come sempre, nel raccontarci che faranno subito un torneo con quattro ragazze per il titolo dei pesi leggeri. Quindi, Michi, vuoi dirci partecipanti e tutto il resto? Sì, allora, il titolo è il Superfly, che dovrebbe essere... Superfly! A volte sì, penso a Tanaka che urla la sua finisher. Il peso dovrebbe essere sotto i 55 kg e al momento sì, ci sono quattro ragazze nello show di oggi, del 15, cioè, questo dovrebbe essere proprio un torneo fatto tutto in una giornata, da quello che ho capito. Poi non ho trovato molte informazioni, anche su Twitter hanno messo sì la card e un sondaggio per capire chi di queste quattro poteva essere la campionessa, ma l'hanno poi spiegato tantissimo. Le rotatrici che ci sono dentro mi mettono un pochettino d'ansia, perché Mise Matsui, che in realtà sta facendo anche abbastanza bene per quello che può fare. Ha dei momenti dove deve un attimo migliorare, però non sta andando malissimo. Natsumi Shotsuki anche lì più o meno bene. Le altre due che hanno messo all'interno del torneo secondo me sono proprio solo per metterlo un po' in mostra. Sono le due Gaijin, cioè Zayda Steele e Myra Grace, che per me non meritavano una shot all'interno di questo torneo. Soprattutto perché dovrebbero proprio cioè almeno almeno una delle due da come è stata messa giù la card dovrebbe arrivare in quella finale, perché hai una Gaijin e una giapponese, una Gaijin e una giapponese, quindi almeno una delle due deve passare oltre. Penso, a meno che invece vadano fuori tutti e due nel primo turno, probabilmente è la cosa giusta da fare, però vabbè, vediamo come come lo gestiranno, però le premesse non sono così grandi per i nomi che ci hanno messo dentro. È un po' il problema di aver deciso di avere subito quattro titoli. Ah sì, sì. Comunque hai ancora poche ragazze e quindi fai un po' più fatica. È vero che hai di fatto due debutti, nell'ultimo senso sono stati due debutti, perché abbiamo avuto quello di Komomo Minami, che era quella che in realtà un anno fa abbondante se mai dovesse debuttare in Stardom poi è scomparsa da Irada. Rapita ovviamente da Rossi Ogawa e lasciata in. Ed è riapparsa per fare un match contro Mirai, ha fatto il match di debutto come Ruki, vedi, solito i primi match per Ruki sono tutti abbastanza simili, ci sarà da vedere come migliorerà, però ci vuole del tempo. Abbiamo avuto l'arrivo di Rea Malumori, che è una ragazza che era in Sendai, che da quello che ha detto Rossi Ogawa è stata proprio Miko Satomura a chiamarlo per dire agli Aranda, c'è una ragazza che vuole assolutamente partecipare al tuo progetto, quindi uscirà dalla Sendai per entrare in Marigold, anche lì è vero, non è vero, boh. Comunque abbiamo visto lei che è arrivata, ha fatto il suo discorso di presentazione e poi vediamo come verrà gestita. Quindi sì, un paio di ragazze in più ce li hai, o anche le gaijin, non so poi effettivamente quanto staranno lì, c'è tutto da vedere. Sì, mi immagino proprio Rossi Ogawa che canta con tutte le ragazze sono tremendo, le lascio quando voglio e poi le riprendo. La cosa che mi ha dato più fastidio dell'ultimo show è stato il Sari Injection. Che cos'è? È il modo che ha avuto Sari per trattare era Victoria Yusuki, quindi ovviamente una ragazza che ha del talento e quindi le fa bene stare sul ring contro gente d'esperienza, come Sari che è giovane ma comunque ha molta esperienza e quindi va bene che abbiano fatto il match, però non ho trovato nulla di più di una scopiazzatura di ciò che fa già Nanai Takashi e la scopiazzatura di ciò che fa Nanai Takashi è questa detta lei fa dei passion injection così chiamati in cui picchia totalmente l'avversaria per secondo lei darle un boost un boost che io ti declasso con questa sconfitta perché non perde mai 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 con le Ruki ha perso ne parliamo dopo ha perso con con Utami per un motivo specifico altrimenti anche lì secondo me avrebbe vinto Saria ha fatto la stessa identica cosa ha preso Yuzuki l'ha battuta come un tappeto fuori dalla finestra l'ha ributtata sul ring ha vinto e credo proprio che non sia servito a un bene amato cazzo Miki e più che altro c'è appunto Yuzuki l'ha già passata per Andanai ha fatto il suo match ne ha fatto un altro con Saria sono molto simili in realtà come idea in poco tempo l'unica cosa che ne è uscita è che effettivamente lei non vuole dare la mano agli avversari e in entrambi i casi le ha scherpeggiate via le ha scherpeggiate via proprio per non darle la mano quindi puoi creare qualcosina intorno a quello però non so effettivamente quanto può andare avanti per una situazione prolungata nel tempo ovvio sembra brava Victoria Yuzuki ha migliorato molto ha inserito anche delle cose all'interno del moveset però è ancora abbastanza indietro come stavano dicendo prima quindi c'è anche questo incontro l'hanno annunciato e sì ok ma non so effettivamente quanto può può andare può essere utile per una come Yuzuki e lo stesso vabbè quello che ci sarà da quello che abbiamo capito nei prossimi show cioè che alla fine di questo incontro quando poi Sarì ha parlato un attimo con Giulia per il richiamo al match di luglio è arrivato a Maisa qua e ci sono anch'io non è una sfida così importante per Sarì quindi anche lì non so esattamente cosa hanno in testa cioè al momento stanno costruendo poco dal mio punto di vista stanno dando degli indizi su alcune cose su alcuni personaggi su cui puntano un po' di più però manca ancora tutta una una parte un po' più concreta visto che appunto ci sono comunque in ballo anche delle cinture nella mia testa bisognerebbe iniziare già anche un po' di vita iniziare a costruire qualcosa anche per quelle che poi non saranno all'interno dei torni o delle situazioni intitolate comunque è un po' di ragazze si inizia a costruire qualche fight a qualche situazione o qualche coppia perché c'è anche un titolo di coppia ma al momento le coppie continuano a girare continuano a cambiare continuano non c'è una direzione c'è quasi un proviamo un po' tutto poi si vedrà però avevamo parlato nell'ultimo nell'ultima volta che abbiamo parlato di Marigold avevamo proprio parlato del fatto che Mirai per esempio in tre show avesse tre compagni di tag diverse con cui ovviamente misurarsi con delle avversarie diverse però anche lì non hai proprio la percezione di come possono andare le cose sono poche le ragazze se tu già bruci tutte le possibili coppie e non vai a selezionarne alcune rischi poi di aver già fatto tanto delle possibilità questo non ci tocca poi più di tanto noi dobbiamo accettare un po' quello che arriva possiamo criticare il tipo di di booking offerto perché effettivamente a livello di costruzione c'è poco 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 corso alla white belt invece allora c'è stato un match esilarante tre contro tre con le tre gaijin contro tre giapponesi vinto dalle tre giapponesi con schienamento se non mi ricordo neanche chi ovviamente ovviamente chi ha fatto lo schienamento si propone per la white belt bozilla che era parte ovviamente del tutto dice oh prendo io la cintura e tra l'altro con un promo clamorosamente brutto che il pubblico giapponese si è bevuto come se fosse il sake più buono del mondo ma loro piacciono molto questi powerhouse che fanno relativamente poco ma sono grandi e quindi loro si esaltano sono rimasti un po' indietro a livello di concezione dei personaggi io sono stato molto male in tutto questo a un certo punto viene chiamata anche mirai la quale sale anche lei e allora così d'amblè queste tre persone hanno iniziato a parlare di white belt cioè non c'è stato praticamente nulla a livello di costruzione niente perché diciamo le cose come stanno la cruda verità l'amara verità la white belt l'abbiamo vista il primo giorno e l'abbiamo risentita nominare qua niente non c'è stato detto come faranno come non faranno ho visto è un torneo anche qua con quattro ragazze dividono quattro per quattro e con i tre tornei che hanno a disposizione hanno finito il roster quindi chi ci sarà mirai bozzilla allora i primi due mesi saranno nagisa notvaki contro bozzilla e mirai contro mi fa uno che nella mia testa potrebbe essere effettivamente la finale che sono le due che al momento del gruppo sta andando meglio forse quindi ci avrei puntato un pochettino di più su mirai e mi corone invece l'ha messo subito al primo turno è bozzilla in finale bozzilla mirai sicuro e occhio perché la vince bozzilla probabilmente la cintura no dai come quella campionessa non può avere bozzilla se sta lì un po' di tempo si è terribile lo so è terribile ho molta paura chiudiamo con ciò che è successo dopo il main event dell'ultimo show ultimo show che ha visto Nanai Takashi perdere mamma mia incredibile contro Utami non avrebbe ve lo dico sono onesto non avrebbe perso se non ci fosse stato poi alla fine del match un video annuncio da parte di Yoshirai che tornerà in Giappone da Marigold per lottare proprio contro Utami e sarà a luglio nello show che faranno quello dove c'è anche Sari contro Giulia giorno esatto dello show il 13 luglio benissimo benissimo il 13 luglio benissimo e va bene va bene il sogno di Utami diventa realtà quindi lei voleva tantissimo lottare contro Yoshirai ma non è assolutamente interessata agli Stati Uniti nel senso se deve andare a fare un match o due non c'è problema ma lei non vuole trasferirsi negli Stati Uniti Utami è sempre stata molto molto sicura di sé quando non esisteva ancora Marigold ricordo una dichiarazione in cui diceva mi piacerebbe tantissimo lottare con Yoshirai io sono sicuro che succederà al 97% sarà qui in Stardom ovviamente non esisteva Marigold neanche nell'anticamera del cervello di Gesù e l'altro 3% da qualche altra parte ma sempre qui in Giappone perché non mi interessa lottare negli Stati Uniti quindi questa era un po' stata la sua poi in realtà l'estate scorsa aveva lottato negli Stati Uniti aveva fatto qualcosa in GCW che aveva fatto che è andata GCW anche che aveva fatto il match con Stati GCW e Ringo Von l'aveva fatto contro Trishadora sì 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 assolutamente quindi insomma si fa in Marigold probabilmente è stato un po' una richiesta anche da parte di Rossi Ogawa per insomma aver traghettato di fatto Giulia da Stardom a WWE magari ha detto dai fatemi sto piacere io uscirai comunque credo che di problemi non se ne faccia ad andare a lottare contro Utami e ci mancherebbe altro direi che insomma è una bella cosa questa forse è la cosa migliore di Marigold da un punto di vista degli annunci forse probabilmente da quando è nata Marigold e quindi sono molto contento per Utami l'ho vista veramente felice sono abbastanza convinto che l'abbiano fatto una sorpresa da quello che ho letto in realtà ha chiesto di non sapere niente è stata una una sorpresa si vedeva anche dalla reazione comunque lei ha iniziato a lottare perché voleva in qualche modo incrociarsi con Yoshirai poi lei è andata in WWE e quindi anche il percorso che ha fatto in Stardom comunque poi dentro a Queencast diventare leader cioè ha cercato in parte di seguire un po' le orme di Yoshirai quindi avere la possibilità di incrociarsi sul ring è sicuramente bello il match può venire molto bene e quindi sono sono contento in realtà mi fa piacere è stata anche un po' una sorpresa anche per me non me l'aspettavo questa situazione quindi bene bene vediamo effettivamente poi come andrà per Utami bene questo è un po' tutto per oggi l'evento che faranno oggi 15 giugno verrà ripreso e poi trasmesso su Vars of the Universe il 22 forse il 21 comunque dopo almeno 5-6 giorni qualche giorno di distanza quindi non aspettatelo per cena perché non ci sarà però arriva arriva per adesso sarà tutto disponibile cercherò di capire anche per il discorso di Marigold in pay per view sul Vars of the Universe io temo che succeda un po' come è successo per delle cose della della Tokyo Joshi dove effettivamente sono state in pay per view e poi ci hanno messo almeno 6 mesi per arrivare libere disponibili sul Vars of the Universe quindi vedete voi se siete interessati a cosa sta facendo Marigold al percorso di Marigold e tutto il resto beh allora chiaramente potrebbe essere cosa buona acquistarlo è l'unico modo per vederlo in tempi brevi credo che non ci sia ancora lo slot per acquistarlo su Vars of the Universe terremo d'occhio e vi diremo ovviamente prezzi e tutto quanto non appena sapremo adesso è anche molto presto nel senso che siamo praticamente a un mese di distanza quindi nessuno oggi compra l'evento della Marigold insomma non si sa c'è già però sono 3200 yen ok sono 19 euro ah ok 19 19 euro super fattibile a livello di prezzo il consiglio ovviamente è indipendentemente da tutto io non sono molto amante di quello che sta facendo Marigold in questo momento perché appunto non c'è una direzione che posso comprendere accetto il fatto che siano all'inizio ma fino a un certo punto perché non sono all'inizio Rossi Ogawa ha un'esperienza di 4 decenni all'interno chi dice decadi lo ammazzo 4 decenni all'interno del business quindi non sono proprio all'inizio qualche idea ce la devi avere e non stanno arrivando però compratelo se volete guardarlo fate del bene al puro reso fate del bene al joshi puro reso è davvero brutto pensare che qualcuno possa piratare in qualche modo certi contenuti che sono effettivamente contenuti che prodotti e venduti fanno produrre e vendere e progredire anche altri eventi in futuro fatelo per il bene del business ma anche per voi si va a letto la sera molto più tranquilli sapendo che si è fatta la cosa giusta vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con noi ringrazio ovviamente Michi per aver partecipato portato le sue considerazioni grazie a te è stato un piacere questo è stato Marigold sotto la nostra lente di ingrandimento torneremo molto presto con altri elementi altre cose interessanti e belle targate l'Ariatto noi vi ringraziamo anche da parte mia io sono Stefano una delle voci dell'Ariatto una delle voci della tavola del ring noi ci sentiamo alla prossima